L'Ecambiente presenta questa iniziativa al Circolo dei Tennis Ecco Village Fest, raccontaci un po' la serata e le iniziative che proporrete e perché questa iniziativa ovviamente? Allora l'iniziativa, noi siamo stati invitati perché è un'iniziativa che è stata organizzata da Mariterra e da Plastic Free e loro appunto hanno l'onore di raccontare esattamente qual è il programma. Io posso dire che come associazione invitata a partecipare noi siamo molto contenti di fare rete con altre associazioni ambientaliste del territorio che si occupano egregiamente della difesa dell'ambiente, della sensibilizzazione e quindi più siamo meglio stiamo. Quindi questo villaggio virtuale, che tanto virtuale non è, ma perché si sta costruendo attraverso questi gazebo e ognuno di noi mostra quelle attività che fa, per noi è una cosa che ci riempie d'orgoglio, di grande soddisfazione e di grande speranza per il futuro. Meri Fiore, anche tu qui? Sì, anche qui per una giornata bellissima all'insegna del ciclo con questi meravigliosi bambini perché si comincia fin da piccoli ad educare all'ecologia e soprattutto per lasciare un mondo migliore visto che questi bambini dobbiamo restituire un mondo diverso da quello che stiamo vivendo noi, pieno di inquinamento. Parliamo di questa iniziativa che voi state organizzando, un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente da Plastic Free, insomma oggi qui tante associazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Allora questo è il primo Eco Village Fest che si organizza, l'idea è partita dalle associazioni Plastic Free e Mariterra, ma abbiamo voluto coinvolgere tutte le associazioni che si occupano di ambiente nel territorio, quindi dal WWF, Lega Ambiente, il FAI, e ce ne sono tante tante altre che parteciperanno con noi a questo evento, speriamo che ce ne saranno altri. Ci saranno momenti di divertimento, c'è un laboratorio per bambini con oggetti reciclati ovviamente, momenti musicali, davvero una grande festa. Ed è un momento molto bello perché è anche un momento per sensibilizzare le persone a questo importante argomento. Ecco, parliamo di questa iniziativa che state facendo qui a Villaseta. Allora, stiamo organizzando grazie alla collaborazione collaborativa di Mariterra, questo evento che è un evento unico, è una festa, è un villaggio in cui festeggiamo e cerchiamo di sensibilizzare nello stesso tempo, che non è facile, quindi unire l'arte, della musica, del riciclo, dei mercatini alla sensibilizzazione verso il nostro pianeta. Quindi festeggiamo non soltanto quello che abbiamo fatto, ma quello che dobbiamo andare a fare, perché è il momento di svegliarsi tutti, ambientalisti, istituzioni e privati, per cercare di salvare questo pianeta, perché fra vent'anni ci sarà il punto di non ritorno e la nostra società continua ancora a far finta di niente. E' un evento bellissimo, ringrazio tutti, l'amministrazione che ci ha dato il patrocino, tutte le associazioni che hanno accolto l'invito nostro e di Mariterra, a cui va appunto tutta la parte organizzativa insieme a noi di Blastifree. Salve a tutti, sono Tony Rocchetta, da anni mi occupo appunto di uno studio della ricerca dei grandi siciliani, anche l'alimentazione ha un ruolo molto importante nella tutela dell'ambiente, della sostenibilità, e da queste ricerche ho riscoperto una varietà che si chiama la chiatulida e ho fatto una pasta secca, che appunto è una pasta che fa bene sia al nostro territorio, perché non ha bisogno di chimica di sintesi, fa bene anche al nostro organismo, quindi oggi l'alimentazione ha un ruolo molto importante nella sostenibilità e nel tutela del nostro pianeta. Grazie.